Ciao a tutti ragazzi sono Tumi e benvenuti a questa nuova puntata del TumiTel come vedrete da questa puntata in poi saranno ambientate le nuove puntate in questa location incredibile che non è altro che il mio sofà con i miei poster però così almeno sarà una specie di vlog, questo sarà un vero vlog diciamo così mi potrete vedere in faccia allora le prime news che ho da darvi come sempre è il raggiungimento appunto dei 3500 iscritti li abbiamo già raggiunti in verità da qualche settimana però volevo ringraziarvi tutti naturalmente è una tappa importante e sarà Rod to 4000 speriamo quindi molto presto speriamo di andare ad arrivare anche a 4000 che sarà diciamo il prossimo obiettivo quindi vi ringrazio tutti la prima cosa di cui volevo parlare è la live di Halloween allora la live di Halloween c'è stata una parecchia partecipazione sono contento di questo e sono contento che vi sia piaciuta perché è venuta veramente bene vi siete divertiti, noi ci siamo spaventati tantissimo e sono contento che anche sono riuscito a salvarla e così l'avete potuta vedere per praticamente queste tre settimane e adesso non so perché si è cancellata cioè praticamente Twitch ti cancella quanto ho capito dopo un po' le live non so perché perché io gli avevo messo save però infatti me l'ha salvata per poi e poi me l'ha eliminata quindi non capisco se Twitch che è stupido che me l' elimina quando ha voglia oppure sono io che non controllo mai la mail e lui mi avvisa ma io non la controllo e quindi mi eliminano le live è più probabile la seconda decisamente comunque mi dispiace che adesso non è più visibile spero che comunque in tre settimane l'abbiate avuto l'occasione di guardarlo almeno una volta non ho fatto gli highlights perché non sono riuscito a esportarla ma comunque non aveva senso fare gli highlights era bello vedersela tutta di fila perché comunque c'era la tensione, gli spaventi è venuta comunque molto bella e adesso che ho capito che il Twitch mi cancella le live dopo circa due settimane e mezzo la prossima volta cercherò di non commettere più questo errore e magari proprio registrerò il video mentre lo facciamo e lo metterò su YouTube direttamente però ricordo che le live saranno sempre su Twitch perché comunque è andata abbastanza bene non ha laggato troppo la webcam un po' si però vedremo di essere più preparati la prossima volta però comunque è piaciuta parecchio ci siamo divertiti anche noi quindi sicuramente ne faremo un'altra magari perché no sempre sui giochi horror Zumpano sarà contento di questo bene ora tornando a parlare delle nostre classiche rubriche la Nuzlocke sta andando benissimo e sono contentissimo di questo visto che mi piace tantissimo la Nuzlocke anche a noi piace tantissimo da adesso ci saranno delle puntate mi sembra due o tre puntate con degli ospiti speciali ve lo anticipo che poi chiaramente gli ospiti speciali saranno amici nostri comunque vedrete cosa succederà alcuni li conoscerete già altri li conoscerete col tempo comunque solo per queste due o tre puntate così ci saranno degli ospiti incredibili e sono contento appunto che vi stia piacendo la Nuzlocke anche noi ci stiamo divertendo parecchio molto divertente con le mosse randomizzate per quanto riguarda invece Pokémon Avventura Fento sono contento che anche questa vi sta piacendo perché all'inizio eravate partiti un po' meno però adesso ho visto che comunque la state iniziando a seguire seguitela perché è veramente molto molto bella come ROM quindi ringrazio sempre Megabishop che ci dà i consigli ogni volta ovviamente il programmatore della ROM invece parlando di Zelda ah Zelda già Zelda è due mesi e mezzo forse tre è che non la faccio più e vi chiederete perché non fai più Zelda? semplicemente perché non ho mai più avuto voglia di farla però sono tentato di riprenderla sì perché ero arrivato praticamente come avete visto al punto di svolta del gioco ovvero quando si diventa grandi e quindi rimane praticamente la seconda metà del gioco sono un po' meno di metà perché poi in realtà la seconda parte è un po' più lunga però sarei veramente tentato di riprenderla visto che me l'avete chiesta in più di uno e allora molto probabilmente da dicembre sicuramente da inizio di dicembre riprenderò Zelda e andremo con un ritmo un po' più serrato se riesco e conterò di finirla in qualche mese insomma però cercherò di registrare sicuramente più parti ora passiamo a una news che interesserà ai più ovvero il next giveaway esatto tra due giorni ovvero martedì uscirà il video del giveaway il nuovo giveaway del mio canale dopo quello dell'anno scorso che l'ho fatto più o meno in questo periodo mi sembra forse un po' prima quindi il nuovo giveaway in cui metterò in premio dei premi veri dei premi solidi che potrete vincere appunto saranno due giochi ve lo anticipo non vi però non vi dico che giochi sono giochi che sicuramente avrete quella console ce l'avrete perché ce l'avete tutti se non ce l'avete rimedierete subito sono due giochi che ovviamente c'entrano con il mio canale e ci tengo a dare a diciamo i due fortunati vincitori i premi saranno solo due come vi ho anticipato il terzo vedremo se inserirlo all'ultimo momento saprete tutto questo martedì vi ricordo sempre di mettere mi piace alla mia pagina di facebook per rimanere sempre aggiornati su tutti i video e su tutte le cavolate che scriviamo perché così non le scriviamo su youtube ma le mettiamo su facebook che facciamo prima che è gestita da mezzo un po' chiaramente passiamo alla sessione retro ok la sessione retro come vedete sarà adesso sempre con me che parlo e vi mostro i giochi allora in questi giorni ho girato parecchi mercatini delusati e sono riuscito a trovare dei giochi per PS1 allora il primo di questi è Tarzan Disney Tarzan che io ce l'avevo per pc questo gioco ed è molto molto bello mi ricordo che non riuscivo a battere il boss finale l'avevo così finito sul computer e appena l'ho rivisto lì per PS1 a 4 euro era completo di tutto col manuale ho detto vabbè prendiamolo dai e così mi piacerebbe rigiocarsi sulla PS1 per cercare di finirlo poi passiamo a Crash Team Racing questo non mi ricordo in verità se ve l'ho già mostrato però se non ve l'ho mostrato adesso lo vedete Crash Team Racing che non è altro che appunto il gioco di corse con i personaggi di Crash quindi sarebbe una specie di Mario Kart con i personaggi appunto di Crash e ce l'ho in Platinum perché non Platinum costa un macello però volevo giocarci perché tutti dicono che è molto molto bello anche migliore di Mario Kart 64 che era il suo rivale di quel periodo e l'ho provato ed effettivamente è veramente veramente bello dico che probabilmente è anche migliore di Mario Kart 64 l'ultimo gioco è questo lo conoscete tutti perché se non conoscete questo potete anche andare a buttarvi sotto i ponti sto parlando di Final Fantasy 7 si c'è ancora il prezzo 22 euro Platinum è completo di tutto col manuale i tre dischi l'ho preso Platinum perché anche questo non Platinum costa un macello davvero però comunque è un pochettino rigata la custodia però spero si potrebbe anche cambiare in verità volevo veramente giocarci a Final Fantasy 7 dato che è disponibile solo è l'unico gioco di Final Fantasy che è disponibile solo per PS1 e per PC quindi io lo prendevo per PC però per PC non mi piace giocare troppo con i giochi del PC quindi preferisco averlo per PS1 e prima o poi lo inizierò sicuramente anche se so che ci metterò 100.000 ore per finirlo perché è lunghissimo passiamo alle domande utenti la prima domanda ci arriva da Dark Red ho sentito dire che lo rifaranno ad aprile maggio ci andrete di nuovo comunque complimenti ad Alexi Leone per la vittoria anche se non giustamente premiato che sta parlando del video del Games Week e il Games Week a quanto ho letto anch'io lo rifaranno ad aprile maggio non chiedetemi il perché se ci andremo credo di no perché comunque queste fiare mi piacciono darci una volta all'anno cioè se vado al Games Week ci vado una volta all'anno non è che ci vado già due volte diventa un po' troppo secondo me quindi ha senso sicuramente ci staremo il prossimo anno questo sicuro quasi al 100% ad aprile maggio invece c'è un'altra festività un'altra fiera che c'è nella mia città ovvero Torino che è il Torino Comics lì ci sarò di sicuro però non so quanti di voi siete siete di Torino perché comunque non è una fiera grandissima però insomma è comunque una fiera di fumetti cosplay, videogiochi eccetera eccetera Francesco Pisano ci chiede ho una domanda per il Tumitel hai sentito che uscirà Majora's Mask non ricordo come si scrive Majora's Mask per 3DS lo comprerai? Dario Coladonato aspetta io ti conosco ci chiede Tumit lo compri un nuovo microfono? sì conto di comprarmi un nuovo microfono anche prima di Natale probabilmente perché mi serve effettivamente perché per ora sì sto usando quello incorporato però sto sempre notando che ha qualche ogni tanto quel rumore di fondo che prima non si sentiva però diciamo che con un udito più fine con i video cioè migliorando piano piano la qualità dei video si sente un po' questo brusio di sottofondo e comprando un microfono un po' più professionale non esageratamente professionale però qualcosa di un po' più professionale chiaramente questo brusio si eliminerebbe ed è quello che conto di fare appunto tra neanche un mese quindi probabilmente sì avrò un nuovo microfono non mi ricordo assolutamente la marca anche se l'ho già messo tra i preferiti su Amazon Pinko Pallino mi chiede appena vi ho visto in webcam ho incominciato ad applaudire grazie farei una guida su Pokémon Dark Rising allora Pokémon Dark Rising è una ROM strana allora vi dico il perché adesso in classe mia praticamente stiamo tutti in fissa con Pokémon Dark Rising tutti giocano a Pokémon Dark Rising perché non so ci ha preso quest'hack solo che è difficile molto molto dannatamente difficile e non sto dicendo che si può fare cioè se mi impegno ce la faccio no è proprio difficile tendente all'impossibile e me l'ha detto anche Zump a questo perché lui è arrivato fino alla fine e mi ha detto che il campione è impossibile da battere io adesso non so non ci sono ancora arrivato al campione non so se è seriamente impossibile però mi ha detto che bisognerebbe nella storia eversare i Pokémon prenderle in nature giuste quindi è già molto più evoluta come Ark ed è molto molto difficile quindi magari per una sfida veramente complicata si potrebbe fare in un futuro ne parlerò con Zump e vedremo perché Zump non è pan bagnato aspetta lo chiediamo a Zump perché Zump non è pan bagnato perché perché bella domanda in realtà Zump una volta era pane ma non pan bagnato bensì pane asciutto però un giorno un triste giorno di novembre con 38 gradi e il vento ha molto forte il vento molto forte non so quale sia la misura del vento non me lo ricordo più forse chilometri orari ma comunque non divaghiamo una volta il grande Zump era un pane asciutto una frusta per giunta una delle più buone dal mio punto di vista però un giorno fu acquistato da una signora una signora anziana si chiamava Emma Botticelli proprio dalla venere del Botticelli era la bis 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 nipote appunto ma era comunque molto vecchia compro questa frusta molto morbida molto buona che era appunto Zumpa ma non contenta del fatto che fosse morbida e buona la inzuppò nel latte del discount il povero Zumpa si bagnò e diventò pan bagnato da quel giorno non fu mai più lo stesso i medici gli riscontrarono un tumore un tumore che prende proprio la mollica del pane bagnato passò passò innumerevoli mesi tra cure ospedali medici specialisti ma nulla da fare Zumpa morì ma poi trovò un fosso un fosso qualcosa da qui ricominciare qualcosa per cui lottare e da lì nacque dal morto Zumpa il pan bagnato nacque Zumpa Fossi il re dei fossi colui che salta i fossi che va lontano colui che persevera nell'ideale della vita vissuta saltando e così sia Amen bene ragazzi questo è tutto per il nuovo TumiTel spero che vi sia piaciuto spero che vi sia piaciuto il nuovo format con questo sfondo incredibile con le domande la stazione rete ho messo tutto insieme con io che parlo e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale io vi saluto e ci vediamo al giveaway martedì ciao a tutti ciao a tutti